Ritornano in città per la quinta volta i Taranto Port Days, manifestazione promossa a livello territoriale dall'autorità di sistema portuale del Marionio nell'ambito del progetto nazionale di assoporti, conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2023 che dal 6 all'8 ottobre vedranno il porto della città bimare, protagonista di numerosi eventi di varia natura. Dai talk tematici ai concerti, dalle mostre alle letture, dallo sport alle degustazioni. Obiettivo rilanciare il binomio porto-città attraverso l'apertura ai cittadini della infrastruttura strategica non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e culturale. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Marionio Sergio Prete. Quest'anno parleremo delle competenze e in particolare chiaramente delle competenze portuali dove c'è anche un'interessante evoluzione delle stesse e quindi affronteremo quelle che sono le professioni oggi richieste nei porti ma anche quelle che sono le professioni del futuro nei porti grazie all'innovazione presente nei porti stessi. Nello stesso tempo però poi ci saranno una serie di eventi anche di intrattenimento che servono proprio per attrarre i cittadini, i turisti nel porto di Taranto per acquisire conoscenza in merito ai progetti e alle attività del porto e per consolidare quello che ormai è una funzione principale di tutti i porti a livello internazionale che è la funzione di legame tra porto e la città. Partner principale dei Taranto Port Days, Ionian Dolphin Conservation nella cui sede si è svolta la conferenza stampa. Il presidente è Carmelo Fanizza. Un evento che ormai sta diventando un must per la nostra città e per la cultura del mare. Tre giornate ricche di eventi, ricche di attività e di iniziative. Scopo fondamentale di queste giornate è quello di far conoscere alla cittadinanza ed è per questo che vi invitiamo a partecipare in maniera numerosa l'area portuale. La manifestazione si avvale anche del patrocinio del comune di Taranto ai nostri microfoni, l'assessore ai servizi educativi e allo spettacolo Fabiano Marti. Noi come amministrazione abbiamo anche sottoscritto questo protocollo con l'autorità portuale per raccontare il mare e il porto ai più piccoli. Lo faremo sui catavalli nella Ionian Dolphin e anche con il nostro gazebo della biblioteca comunale che sarà a disposizione di tutti per raccontare quello che accade nella nostra biblioteca. Un rapporto sicuramente simbiotico quello tra la capitaneria di porto e l'infrastruttura portuale, come ha sottolineato il comandante Rosario Meo. Il porto costituisce elemento trainante di economia e fa parte di quel patrimonio identitario di questa città che è da sempre attratto dal porto stesso, sviluppo e nuove prospettive anche legate a traffici e penetrazione nell'ambito anche di quelle che sono le linee commerciali nazionali. Porto dei vuol dire naturalmente enfatizzare quello che è il ruolo di questa infrastruttura rispetto al territorio e la capitana di riporto guardia e consiglia che in questo territorio da 1865 non può che sostenere questa iniziativa.